1.224, 5 coppie per la finale e 2 addirittori. 2.224, 5 coppie per la finale e 2 addirittori. 2.224, 5 coppie per la finale e 2 addirittori. 3.224, 5 coppie per la finale e 2 addirittori. 3.224, 5 coppie per la finale e 2 addirittori. 3.224, 5 coppie per la finale e 2 addirittori. 3.224, 5 coppie per la finale e 2 addirittori. 2.224, 5 coppie per la finale e 2 addirittori. 3.224, 5 coppie per la finale e 2 addirittori. 3.224, 5 coppie per la finale e 2 addirittori. 4.224, 5 coppie per la finale e 2 addirittori. 5.224, 5 coppie per la finale e 2 addirittori. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.